Il capitolo delle neuropatie in termini di poli, generalmente polineuropatie periferiche, cioè che colpiscono soprattutto gli arti inferiori, è un problema importante dal punto di vista epidemiologico e qualche volta invalidante dal punto di vista qualità della vita. Il paziente polineuropatico, ancorché in letteratura si parli quasi solamente di dolori del paziente neuropatico, di fatto è disturbato soprattutto nella sua deambulazione, nel suo cammino. Un soggetto che ha una polineuropatia, soprattutto agli arti inferiori, che ha delle turbe della deambulazione, ha assai poco a disposizione in termini di rimedi terapeutici. Oggigiorno però la tecnologia avanza, ci sono un sacco di ricercature che si occupano proprio di migliorare la qualità della vita. E' il caso di un device, per usare un termine inglese che significa un'apparecchiatura, in questo caso meccanica, che applicando delle stimolazioni a livello periferico, cioè a livello della pianta del piede, comporta un miglioramento della deambulazione. I successi che sono stati ottenuti sul campo, al di là di programmi di ricerca clinica, sono entusiasmanti. Questa metodica è stata sperimentata, ci sono delle evidenze cliniche, dettate soprattutto dai risultati ottenuti in ricerca clinica, nella malattia di Parkinson, che ha degli aspetti che toccano anche il cammino. Gondola probabilmente ha un grosso impatto proprio sul cammino perché agisce a livello periferico, agisce a livello midollare, il quale riceve degli input dal cervello, ma invia anche degli input dal cervello e si formano dei circuiti che di fatto migliorano il cammino che nel caso del paziente in questione è deficitario. Personalmente sono un sostenitore di un approccio multivariegato, cioè un approccio per cui una terapia aiuta l'altro, il termine inglese è Head on Therapy. Io ho un paziente che ha una polineuropatia diabetica, va curato in permesso di suo diabete, può darsi che vadano anche dati dei medicamenti che migliorano il metabolismo di quel nervo periferico alterato dal metabolismo zuccherino e a un certo punto aggiungo anche gondola, come quindi Head on Therapy, ma gondola gioca un ruolo molto importante nel migliorare la qualità della vita. Questo paziente ce la fa camminare, questo paziente che non aveva una deambulazione tale per poter svolgere le sue funzioni normali della vita quotidiana si trova a camminare adeguatamente. Quel paziente deve, a mio avviso, passare attraverso un momento di almeno di prova di questa metodica che migliora la sua qualità di vita per verificare se appartiene con ogni probabilità al grande numero di pazienti responders e non piuttosto dei pazienti che non rispondono. Mi viene spesso domandato quando comincia a funzionare gondola. La risposta è praticamente subito, se dopo una prova di pochi minuti, perché la stimolazione consiste in stimolare dei punti elettivi, quelli che fanno alzare il piede e quelli che danno la distanza del passo, quando vengono stimolati questi punti elettivi la risposta è immediata. Il problema è di stabilire, per esempio nell'arco, nel tempo di una settimana, quante volte devo stimolare il paziente? Noi abbiamo visto che, per esempio nel paziente parkinsoniano, in genere, un paio di stimolazioni settimanali sono largamente sufficienti per comportare un miglioramento del cammino. E' questo il caso delle polineuropatie? Cioè due volte alla settimana, un paio di minuti? Può darsi di sì, può darsi che invece bisogna ridisegnare degli algoritmi in termini di tempo che suggeriscono di fare, per esempio, una stimolazione un giorno sì, un giorno no. E' un capitolo che stiamo svolgendo dal punto di vista di ricerca clinica, ma direi che ormai le evidenze sul terreno, le evidenze in base all'esperienza abbastanza importanti che cominciamo avere raccolte, sono assolutamente interessanti per gondola. Che quindi non è soltanto un device che migliora, per esempio, a livello placebo, no, ci sono delle prove evidenti neurofisiologiche che possono spiegare bene il funzionamento di gondola.